Ciao ragazzi e bentornati a tutti Qua siamo in un nuovo video E oggi giocheremo A Free Fire Con un mio amico Se entra Eccolo qua Mattia Matt Dai entra sbrigati Scherzavo oggi Adesso è in squadra Dopo verrà perché adesso Doveva mangiare Iniziamo subito Dai dai Ok Vi ricordo Se volete giocare con me Oppure seguitemi sul mio canale Instagram Anthony Tiberi Nooo Ok la miglior arma è il Pompit Il pompa del nonno Ok Speriamo E schiacciamo Questo Non sopra i tetti Non sopra i tetti Ok Eccolo Non sopra i tanti Ok ah non sto giocando in solo come mira questa cosa vediamo ah ma esce il cecchino il cecchino morto si non sto giocando scusate se non parlo ma scusate se non parlo ma ci sono solo io ho fatto solo due kill scusate se non parlo ma grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.